Quando si parla di processo penale si parla di prova perché lo scopo del processo consiste nell'accertare un fatto del passato. Come sappiamo a volte è un problema perché non sempre si riesce a far rivivere un fatto del passato. Si cerca di farlo rivivere nel processo penale nel migliore dei modi anche perché l'onere della prova è molto pesante, ovvero occorre raggiungere lo standard dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio. La materia della prova poi ha subito una rivoluzione copernicana nel passaggio dal codice del 1930 al codice del 1988 perché nel sistema inquisitorio la prova non era regolamentata, quindi secondo il codice del 1930 che abbracciava un sistema di tipo inquisitorio. Secondo il principio di autorità era tutto rimesso nelle mani dell'inquisitore, invece nel sistema accusatorio c'è una netta separazione delle funzioni, accusa, difesa, giudizio. Nell'ambito dell'acquisizione della prova infatti l'unico soggetto che non può ricercare le prove è proprio il giudice, le prove vengono infatti ricercate dalle parti. Si ragiona secondo il principio dei checks and balances, spesi e contrappesi, in modo tale che il potere arresti il potere. Nei sistemi accusatori è molto importante regolare la prova. Un istituto emblema del sistema accusatorio è l'esame incrociato. Fino agli anni 90 la prova regina nel processo penale era la prova dichiarativa, la prova testimoniale, pertanto si doveva lavorare bene sull'esame incrociato. Dagli anni 2000 in poi c'è stato l'effetto dirompente nel processo penale della prova scientifica, anche nella forma della prova informatica o digitale. La scienza nel processo penale può essere una prova decisiva, ma occorre prestare estrema cautela. Andremo a studiare attentamente la prova scientifica, cioè il metodo attraverso il quale la scienza entra nel processo. Parlare di scienza nel processo penale significa parlare di metodo. Nel processo penale possono entrare tutte le scienze, l'importante è rispettare il metodo, affinché la scienza non sia usata come scorciatoia per l'errore giudiziario. La giurisprudenza degli ultimi anni ha segnato un percorso illuminato nell'individuazione del metodo che permette di far entrare la scienza nel processo e di gestirla per accertare il fatto. Conta il modo in cui il reperto è stato raccolto, il modo in cui un reperto è stato conservato, la cosiddetta catena di custodia, e conta altresì quale informazioni si ricavano dal reperto. Anche perché la scienza non dà il risultato in termini di ricostruzione definitiva del fatto. La scienza ci può aiutare nell'individuazione di una o più prove e poi bisogna fare un ragionamento che le unisce tramite le massime di esperienza. La sentenza contiene un'esposizione del ragionamento che ha fatto il giudice, il quale nel processo penale deve riuscire a ricostruire il fatto storico e il fatto tipico, mediante interpretazione delle norme del diritto penale sostanziale. Quindi sono fatti di oggi, le prove, sono fatti di oggi che ci dicono qualcosa su come si è svolto un fatto di ieri. Attraverso le prove il giudice ricostruisce il fatto storico, attraverso l'interpretazione il giudice ricostruisce un fatto tipico e mediante il giudizio di conformità si effettua la sussunzione, ovvero la valutazione di conformità, tra il fatto storico ricostruito mediante le prove e il fatto tipico. In sintesi, il giudice condanna se il fatto storico presenta tutti gli elementi essenziali della fattispecie incriminatrice, altrimenti il giudice assolve. A livello di quantum di prova è necessario che ogni singolo elemento della fattispecie incriminatrice risulti provato al di là di ogni ragionevole dubbio. L'articolo 192 del codice di procedura penale dice che il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Nella norma, per risultati acquisiti si fa riferimento al risultato probatorio e per criteri adottati si intende come il giudice ha ragionato per ritenere o per escludere l'affidabilità di una prova. Il procedimento probatorio è il complesso delle attività che conduce alla ricostruzione del fatto nel processo penale. Le fasi del procedimento probatorio sono 1. la fase della ricerca della fonte di prova, 2. la fase dell'ammissione, 3. la fase dell'assunzione che porta alla formazione dell'elemento di prova, 4. la valutazione che conduce al risultato probatorio. Occorre ricordare che nel processo penale non esiste la prova legale. Sono molti i cambiamenti che ci sono stati dal 1988 ad oggi. Il perito prima era un ausiliario del giudice, anche se la perizia si svolgeva in contraddittorio. Il giudice poteva basarsi sul parere dell'esperto senza motivare la sua scelta, la cosiddetta decisione per relazione. Inoltre, del consulente tecnico non si individuavano con chiarezza i poteri. Con la riforma costituzionale del giusto processo entrato in vigore nel 2000, la prova scientifica subisce il medesimo vaglio del contraddittorio, come la prova comune. Ricordiamo dunque le tipologie di prova. Abbiamo la prova rappresentativa, ovvero quel procedimento logico che da un fatto noto attraverso la rappresentazione permette di arrivare ad un fatto ignoto. Nella prova rappresentativa si parte da un fatto noto, per esempio un filmato o una dichiarazione, che già ci rappresenta il fatto da provare. Per esempio il testimone ce lo rappresenta con una dichiarazione, oppure la videocamera con la visione del filmato. E poi, se si riesce a valutare la credibilità della fonte e l'attendibilità dell'elemento fornito, si arriva in via diretta al fatto storico da ricostruire. Rappresentare significa rendere conoscibile un fatto del passato. Si può fare in tanti modi, attraverso dichiarazioni, gesti, disegni, eccetera. L'importante è che nella prova rappresentativa il ponte fra fatto noto e fatto da provare sia dato dalla rappresentazione. Invece, nella prova indiziaria o prova critica, il fatto noto, perché provato, è la circostanza indiziante, ad esempio l'impronta digitale trovata sul luogo del delitto. E il ponte logico che mi conduce al fatto storico da ricostruire passa attraverso massime di esperienza o leggi scientifiche. La prova indiziaria è quel ragionamento che da un fatto provato, cosiddetta circostanza indiziante, mediante una massima di esperienza o una legge scientifica, ricava l'esistenza di un ulteriore fatto da provare. Ad esempio, il fatto storico è debitato all'imputato. Spesso si ritiene che nel processo sia meglio avere prove rappresentative piuttosto che prove indiziarie, perché l'indizio con il ponte logico fra fatto noto e ignoto è il regno dell'arbitrio. In realtà, anche nella prova rappresentativa per eccellenza, che è la prova dichiarativa, torniamo nell'ambito del ragionamento che passa attraverso le massime di esperienza. Quindi non esiste una differenza qualitativa tra prova rappresentativa e prova indiziaria. In entrambi i casi si deve passare da un ponte logico che il giudice deve esplicitare in motivazione. Secondo la logica aristotelica induttiva, dall'esame di tanti casi particolari e concreti, si ricava una regola generale, quindi dal mondo dei fatti si passa al mondo delle regole. Poi si effettua un ragionamento di tipo deduttivo, quindi al caso particolare che ho di fronte nel processo, applico la regola di esperienza, che ho ricavato da altri casi simili. È importante fare un confronto tra massime di esperienza e leggi scientifiche. Allora, le leggi scientifiche hanno un valore generale, mentre le massime di esperienza hanno eccezioni, perché fanno riferimento a vicende umane, uniche e irripetibili. Inoltre, in tema di leggi scientifiche, il fatto è ripetibile, perché posso fare quanti esperimenti voglio, mentre in tema di massime di esperienza, il fatto cui le applico non è ripetibile. Inoltre, le leggi scientifiche sono misurabili mediante quantità, mentre le massime di esperienza non lo sono, e nelle leggi scientifiche la regola è controllabile dagli scienziati in laboratorio, mentre con riferimento alle massime di esperienza, la regola non è controllabile. Un grosso problema in tema di massime di esperienza riguarda il giudizio di somiglianza tra casi, nel senso che ho un caso concreto e vado a vedere altri casi simili per ricavarci la massima di esperienza da applicare. Qui c'è un alto tasso di discrezionalità e il rischio è quello di farsi abbagliare da un'apparente somiglianza. Prendiamo il caso di Carlotto, che viene visto uscire di corsa da un appartamento nel quale è stata ritrovata la sua amica uccisa a colpi di coltello. Carlotto non chiede soccorso, se avvale della facoltà di non rispondere o se avvale di un alibi che non è provato. Il giudice ragiona secondo la logica che a fatti simili corrispondono comportamenti umani identici, quindi la regola di esperienza che si trae è che chi esce di corsa dal luogo in cui si trova un cadavere senza chiedere soccorso o senza chiamare la polizia e non dà spiegazioni sul perché si è comportato così, ha commesso il delitto. Il ragionamento deduttivo è questo, cioè Carlotto viene visto uscire di corsa da un appartamento nel quale è stata trovata la sua amica uccisa a colpi di coltello. Non chiede soccorso e non sa dare spiegazioni. Regola di esperienza è che chi è esso di corsa dal luogo in cui si trova un cadavere senza chiedere soccorso e non dà spiegazioni sul perché si è comportato così, ha commesso il fatto. Fatto accertato è che Carlotto ha ucciso la sua amica, sul coltello c'erano anche le impronte digitali che corrispondono a quelle di Carlotto, si apre alla legge scientifica delle impronte digitali. Fatto accertato, Carlotto ha maneggiato il coltello usato per uccidere ad affermare che le impronte digitali rilevate sul coltello con il quale è stata uccisa l'amica appartengono al suo amico Carlotto, il quale nel corso del processo non ha dato spiegazioni sul perché ha toccato il coltello. Secondo la massima di esperienza, chi ha lasciato le impronte sull'arma del delitto e non dà spiegazioni sul perché l'ha maneggiata ha commesso il delitto. Si ritiene che gli indizi nel caso Carlotto siano gravi, precisi e concordanti. Nel processo penale c'è una difficoltà sia con riferimento alle massime di esperienza che alle leggi scientifiche, poiché quest'ultime consentono di affermare che dato l'evento A seguirà l'evento B, ma le leggi scientifiche e le massime di esperienza raramente consentono di affermare che in presenza di un evento B l'unica causa di esso sia l'evento A, perché anche quando la legge è fortemente predittiva, quindi l'indizio è grave e la legge scientifica o la massima di esperienza è molto pesante, resta sempre la possibilità che l'evento B possa avere anche altre cause differenti da A. La legge scientifica e la massima di esperienza infatti si utilizzano a ritroso. Facciamo l'esempio. Quando piove la strada è bagnata. Ma devo chiedermi, posso dire anche che quando la strada è bagnata è piovuto? Non è detto perché può esserci la strada bagnata perché è piovuto, ma anche perché hanno fatto la pulizia delle strade o perché si è rotto un tubo. Quindi se io vedo la pioggia so che la strada si bagnerà, ma se io vedo la strada bagnata non posso essere certo che sia stata la pioggia. Quindi bisogna fare un ragionamento che mi indirizzi a concludere che sia piovuto, come per esempio andrò a vedere se sono bagnati anche i giardini circostanti, le auto in sosta. Se così fosse allora posso concludere che è piovuto, ma se al contrario vedo che le auto sono asciutte, i giardini sono asciutti, non posso essere così certa che l'unica causa dell'evento strada bagnata sia la pioggia. Nel processo penale è necessario cercare di rendere più dettagliata possibile la ricostruzione del fatto, più elementi ho e meglio riesco ad individuare la legge scientifica o la massima di esperienza. Si tratta del principio di sottodeterminazione, ovvero i dati osservati non determinano in maniera decisiva la teoria, politica. Sono compatibili con più teorie e l'unico modo per individuare la teoria corretta è ampliare il campo di osservazione. Tornando al caso Carlotto, successivamente è venuto fuori che Carlotto faceva parte di un'associazione contro lo Stato e andava tutti i giorni a buttare le bombe in piazza. Nel momento in cui si è verificata la vicenda dell'amica, alla quale Carlotto era completamente estraneo, egli non si è messo a fare la chiamata alle forze dell'ordine, perché se avesse chiamato lo avrebbero preso di sicuro, ma non per quel fatto che non aveva commesso, ma per altre vicende in cui era coinvolto. Le impronte erano presenti sul coltello perché Carlotto era entrato in casa dell'amica, l'aveva vista morta, aveva preso il coltello e lo aveva lasciato andare scappando per evitare di avere poi delle conseguenze. Quindi importante è sempre effettuare il tentativo di smentita nel processo penale. Grazie. 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 Grazie.